dopo il video virale caricato da luis sul canale di muschio selvaggio da dove uscì fuori il meme del dillo alla mamma e all'avvocato fedez non si era mai pronunciato in risposta ma nelle stories degli scorsi giorni c'è stata una frecciatina velata a luis per la prima volta dopo quel video abbastanza evidente inoltre a quanto sembrerebbe la causa legale tra i due sta procedendo e forse questo è un segno che la situazione sta volgendo al favore di fedez che ci scherza su vi lascio ai filmati fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate noi ci vediamo ad un prossimo videolinea allo studio benvenuti a rome il mio amico denis la mamma manca l'avvocato